Ciao amici di Rock Targata Italia, noi siamo in Circus Punk da Serenio, io Arianna alla chitarra e voce, io Antonio alla batteria, dunque che influenze abbiamo? Influenze, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Motored, Led Zeppelin, insomma ci piace il rock quello bello, per l'appunto il rock quello bello, duro e cattivo. Abbiamo appena registrato un EP che uscirà a breve, per cui non siamo ancora usciti ufficialmente, per il momento vi suoneremo due pezzi che si chiamano Plastica e è il posto giusto. Ciao ragazzi! Una volta c'era un uomo che teneva tutto quanto per sé, soldi in tasca e tebuti, pugni in faccia e teboli. Quando eravamo in città, per provare gloria, per aspettare in macchina, per fare come la plastica. La vicina di città, mi guardava soppresa, metteva sulla colliccia per fare la spesa. Quando eravamo in città, mi guardava soppresa, metteva in macchina, per aspettare in macchina, per aspettare in macchina. Per aspettare in macchina, per aspettare in macchina, per aspettare in macchina. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti